Ricordare Gianroberto immaginando il futuro. Io lo ricordo così, sotto un albero, le radici di un albero piantato in un parco e con un piccolo messaggio affidato nel mare della rete come una bottiglia. Gianroberto amava la natura, amava gli alberi. Gli alberi sono il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro. Danno ossigeno, biodiversità, creano biodiversità. Sono l'essenza stessa della nostra vita sulla terra, noi e di tutti gli altri esseri viventi. Per questo dobbiamo imparare a convivere con la natura, non sfruttare la natura, convivere con la natura. I diritti della natura dovrebbero entrare in Costituzione e la natura ci insegna anche un'altra grande cosa, la biodegradabilità, come deve essere la politica, come l'ha sempre immaginata Gianroberto insieme a Beppe dal primo Videi. Due mandati parlamentari, europei, italiani, nelle assemblee legislative regionali e poi c'è un ricambio come nella natura, la biodegradabilità, che crea ricchezza, crea ricambio, ossigeno, nuovo ossigeno. Già Roberto, credendo nel valore aggregante della rete, l'ha sempre vista come un punto di partenza per aggregare persone in nome di progetti, di idee. Per lui i leader non erano collettori di potere, non dovevano aggregare su se stessi potere, ma semmai persone per battersi per idee, per singoli progetti, come ci insegna anche la rete, unirsi, condividere tutti insieme dei singoli progetti. Questo ci ha insegnato Gianroberto e così immaginava i leader appunto distaccati, non li immaginava come leader assolutisti e concentratori di potere. Non a caso Beppe non ha mai ricoperto poteri esecutivi e legislativi. Questo immaginava Gianroberto nelle tante chiacchierate che abbiamo fatto dal 2006 e mi ricordava sempre, Matteo, quando l'erba è troppo alta, come in un buon prato, va segata un po', va tagliata un po' e questo era per ricordare a tutti noi il valore dell'umiltà, di stare umili, sempre umili, in ascolto al prossimo. E per questo c'è la rete che può aggregare le persone su idee, ma poi per vederci fisicamente per realizzare queste idee, come il progetto di piantare alberi, milioni di alberi, perché noi abbiamo bisogno di nuove foreste, non parchi, foreste, per far crescere e vivere nuova natura. E io Gianroberto lo immagino così. È nel vento, nel vento delle sue idee e negli alberi, in ogni albero piantato sulla terra. Ciao Gianroberto, grazie di tutto per quello che hai fatto per me e per milioni di altre persone che forse non se ne rendono neanche conto di quello che hai fatto. Grazie del più profondo del cuore.